In Italia, tutti sono fan di Gianni Amman, che ha mostrato il suo vero volto. Mentre i suoi fan si sono divisi, Gianni Amman ha iniziato a ricevere reazioni per il suo ritorno nel tuo paese. Gianni Amman ha fatto qualcosa di così speciale per un suo fan che le immagini sono alla fine del video.